La prima volta, dissi a tua madre, a questo bambino diventerà certamente qualcuno. E tu cresceri bello, sano, forte. Vederti crescere ogni giorno era una cosa meravigliosa. E quando è arrivato il momento per te di diventare un uomo, di affrontare il mondo, l'hai fatto, ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più, hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole e l'hai trovato in un'ombra. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rosa e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incasti. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne vai in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbagli. I biglietti fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! E se vediamo sopra un avversario, ecco il giro! Goal! Amorra! Amorra! Signore, c'erano, c'erano il giro! Goal! I biglietti fanno! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.